Take it easy, take it slow We ended up just like before So, take it easy, take it easy Ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video Io sono Ciacchinato e oggi ragazzi siamo in un nuovissimo video di Fortnite News Mi raccomando ragazzi, come al solito prima di iniziare per sostenermi basta un bel mi piace Iscrivetevi al canale se vi piacciono le news, tutto questo mondo riguardante Fortnite Mi raccomando è davvero importante e vi ricordo se volete seguirmi per avere diciamo qualsiasi link in tempo reale Ciacchinato trattino basso tv è il mio Instagram Inoltre potete anche sostenermi nell'item shop con il mio codice Ciacchinato nato Ho detto questo ragazzi, siamo in un video news davvero molto molto importante Perché ragazzi, perché ho trovato un bel video da farvi vedere Adesso questo non è un video che dici confermato al mille per mille Però è un potenziale video diciamo vero Se si può dire così Perché ragazzi, forse si è scoperto cosa si cela Cioè, anzi, dentro lo sportello che vediamo all'esterno dell'agenzia Vedete no? Tutti i sportelli, quelli che fanno le bollicine Cosa c'è al loro interno? Forse abbiamo la conferma ragazzi Dico forse sempre perché ovviamente sono un leak Non si può mai avere il 100% Ma questo mi sembra diciamo un leak molto potenziale Perché fidatevi è fatto bene, ha senso E adesso ve lo farò vedere Però prima vi volevo far vedere queste immagini qua ragazzi Ecco l'agenzia come sarà dopo l'evento Possiamo osservare che c'è un bel buco Diciamo al centro dell'agenzia Perché lì andava posizionato il doomsday Infatti avrà fatto un macello Infatti l'agenzia è tutta distrutta Avrà tutte le macerie attorno E in più vediamo anche gli alberi secchi Se invece guardiamo qua ci sono alberi tutti naturali In forma diciamo Invece dopo l'evento saranno tutti secchi Quindi fa capire che questa zona verrà praticamente devastata Nel vero senso della parola E niente ragazzi Queste sono le foto che per il momento abbiamo Per il dopo l'evento Io vi lascio per l'appunto qua Adesso invece il video Di cosa c'è dentro queste fantastiche botole Guardate un po' Inoltre ragazzi Vi volevo anche informare che Epic Games è già avanti Di ben Tre patch Infatti l'Epic Games Si è già portata molto ma molto avanti Infatti abbiamo Già le versioni 13, 13.10, 13.20 Già testate proprio Ma proprio già testate Nel senso che sono State provate all'interno del gioco E sono pronte Quasi Almeno Per essere esposte diciamo A noi pubblico Quindi ragazzi L'Epic Games comunque sta lavorando State tranquilli Lo so che sto rimandamento è brutto Ma fidatevi Che ne varrà la pena secondo me Detto questo abbiamo anche un'altra notizia Molto importante Vi ricordate lo scorso video Del buco nero Che vi avevo fatto vedere Beh in molti stanno riscontrando Beh in molti no Però comunque Alcuni stanno riscontrando Ancora questo video Io vi dico Che secondo me È un bug Normalissimo Perché il buco nero Significherebbe Portarci in un'altra dimensione Ragazzi Quindi in un'altra mappa ancora Cosa che non succederà Mai credo Perché Perché se lo scorso buco nero Ci ha portato in un'altra dimensione Almeno che non sia un buco nero Un diverso Non credo che ci sarà mai Quindi ragazzi State tranquilli Non credo proprio Che ci sia un altro buco nero E niente ragazzi Per questi Per oggi Le news sono queste Non ne ho più tante Ovviamente L'evento sta per arrivare Il mondo di Fortnite È diciamo un po' fermo Quindi Ovviamente ci sono pochissime news Da dirvi Queste sono proprio Tutto quello che ho trovato Tutto quello Che c'è da dirvi Inoltre Io vi Invito a lasciare qua sotto Un bel commento Di cosa ne pensate Dei sportelli Di come sarà l'evento Se siete in hype Soprattutto perché è il primo Evento Diciamo Di questo nuovo capitolo Quindi Vedremo ragazzi Noi ci vediamo comunque Un prossimo video O una prossima live Vediamo Bella Ciao Grazie a tutti.